L'Odorio Sì? Sai, non ti avrei mai creduto così virile. Per la famiglia si fa questo ed altro. Adesso però bisogna sloggiare, subito. Torneremo qui da padrono, dopo che la baia ci sarà stata legalmente assegnata. Fortuna che abbiamo ritrovato quello di mio padre. Tra l'altro ora nessuno potrà accusarlo di essere un assassino. Tutto è bene, quello che finisce bene. Mammina, papi! Come giocano bene a fare i morti. Dai, andiamo giù la baia! Ah, a la smora! Dai, andiamo giù la malà! Dai, andiamo! Dai, andiamo! Ma, eiskt? Grazie a tutti. Grazie a tutti.